e facciamo un applauso anche alle ragazze che hanno fatto tutto ciò poi ringraziamo i genitori delle bambine che sono state con noi io ringrazio i miei modelli Antonio, Daniele, Sara, Sara Corranca e Sara Corranca e Sara Corranca e Sara Corranca e Sara Corranca ringrazio Pepe che è con noi, spero che salga sul palco per raggiungerci ringrazio tutta la giuria, grazie per essere stata qui con noi e di sera stasera di nuovo ringrazio i gruppi che hanno cantato, complimenti a tutti e ancora ti ringrazio e ringraziamo Claudio Baldini perché è stato fantastico in queste due serate ringrazio di cuore mio marito che mi segue e mi aiuta in queste grandi avventure e i miei figli che sono stati dalla faccia sile domani ci aspetta un'altra serata